Benvenuti, sono Jana Klee di Panorama B. Il nostro tour Berlino nel Terzo Reich è nato dalla collaborazione con l'Associazione Berliner Unterwelt a completamento della mostra Mythos Germania. Vi mostriamo i luoghi di importanti momenti storici tra l'ascesa al potere dei nazionalsocialisti nel 1933 e la fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. Numerose immagini danno l'idea di luoghi scomparsi come la Cancelleria del Reich o il Bunker del Führer. Presentiamo anche edifici nazionalsocialisti esistenti come luoghi di lavoro di diversi attori del regime nazista. Un altro aspetto del tema riguarda i piani di riorganizzazione di Berlino da parte di Adolf Hitler e Albert Speer. Un punto fondamentale del progetto, noto in seguito con il nome di Welthauptstadt Germania, capitale del mondo Germania, era rappresentato dall'odierno quartiere del governo e del Parlamento. Qui si estendeva allora l'Alzenfiertel fino alle sponde dello Spree. Fu abbattuto dal 1938 per permettere di costruire liberamente una enorme sala con cupola. Scomperve così un intero quartiere della città. L'edificio, adornato da colonne nella foto, è l'unico elemento rimasto. Dal 1920 era stato la sede dell'Ambasciata svizzera. La sua facciata rende ancora l'idea dello splendore passato delle strutture adiacenti. Dal 1936 l'architetto Speer era stato incaricato da Hitler di elaborare piani e modelli per il progetto Germania. Ecco il nucleo del progetto edilizio, un asse nord-sud di circa 6 chilometri con la grosse Halle, un enorme edificio a cupola nella parte superiore dell'immagine. Questa nuova struttura avrebbe dovuto attraversare la città di Berlino. L'enorme stazione a sud formava la parte iniziale nell'estremità inferiore con un'ampia piazza antistante di 330.000 metri quadri. Essa doveva essere abbellita da materiale bellico dei paesi soggiogati e da un arco di trionfo alto 117 metri. Il boulevard collegato della larghezza di 120 metri era ispirato agli Champs-Élysées parigini, ma li avrebbe superati nelle dimensioni. Gli edifici, dalle facciate lunghe fino a 200 metri, tra cui circa una dozzina di ministeri, sedi amministrative del partito di Stato NSDAP e rappresentanze di gruppi privati e istituzioni culturali, avrebbero riprodotto in pietra le ossequiose parate. A nord del parco Tiergarten era prevista una piazza per le parate, incorniciata ad ovest a un palazzo del Führer, di dimensioni esorbitanti in maniera grottesca. Sebbene Hitler aveva fatto erigire la nuova, assontuosa cancelleria nello storico quartiere del governo, in questo palazzo era prevista una nuova cancelleria, con una galleria lunga più di 500 metri che doveva intimorire gli ospiti del capo di Stato. Il Reichstag sarebbe stato integrato come edificio annesso sul lato orientale della piazza. La Große Halle rappresentava il culmine in assoluto. Concepito secondo uno schizzo di Hitler, l'edificio avrebbe ospitato fino a 180.000 persone ed era pensato come luogo di culto e Stadtkrone, ossia corona della città. Su una superficie quadrata di circa 99.000 metri quadri, la cupola colossale doveva raggiungere 300 metri di altezza ed essere così la costruzione più grande del suo genere al mondo. Come mostra la descrizione dell'asse, la capitale del Reich si trasformava in una superficie di proiezione per masse di costruzione, per cui spesso non era previsto un uso reale, ma che miravano ad un impatto esteriore schiacciante e smisurato. Gli obiettivi bellici di Hitler giocavano un ruolo determinante. Mediante le guerre di conquista, fino al 1950, la Germania si sarebbe elevata a Grande Impero Germanico e Berlino sarebbe stata ricostruita come capitale del mondo. I progetti di una nuova struttura erano alimentati essenzialmente dalla megalomania politico-militare e architettonica di Hitler. Anche l'ampia superficie inedificata dell'odierno Spreebogenpark ricorda la spietatezza con cui i nazionalsocialisti mettevano a disposizione le strutture urbane storiche, senza curarsi delle conseguenze economiche e sociali. A causa delle scarse fonti, non può essere infine chiarito se Berlino sarebbe stata rinominata a Germania, come annotato nel 1942 dalla protocollista di Hitler, Henry Picker, durante le conversazioni a tavola. Il concetto di Germania si è tuttavia affermato nella lingua comune. Per tutti coloro che desiderano avere ulteriori informazioni sul tema, consigliamo vivamente la visita della mostra Mythos Germania presso la Berliner Unterwelten E.V. nella Brunenstrasse 105. A questo punto vi saluto e spero che il programma vi sia piaciuto. Se è così, mi farebbe piacere una valutazione positiva del video. Grazie mille e arrivederci!